Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come sbloccare il viaggio veloce gratis in Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn, come potete vedere, ha una mappa estremamente generosa in termini di dimensioni e sono presenti numerosi, e per numerosi intendo davvero tanti falò. I falò possono essere usati non solo per, diciamo, salvare la partita automaticamente o manualmente, ma anche per teletrasportarsi da una parte all'altra. Magari ecco, in questo caso io mi trovo qui e voglio raggiungere questa parte, invece di farmela a piedi mi teletrasporto ad un falò. Il teletrasporto, meglio viaggio rapido o viaggio veloce, ha un costo. Presso i mercanti potete acquistare questo materiale che vi mostro adesso, in risorse, questo, più che materiale è una risorsa, kit viaggio veloce. Il kit viaggio veloce si consuma. Ogni volta che usate un kit viaggio veloce, diciamo, lo consumate, e quindi se non avete kit viaggio veloce disponibile non potete teletrasportarvi. I kit viaggio veloce possono essere acquistati dai mercanti. Tuttavia esiste una, diciamo, risorsa indispensabile per viaggiare gratis, ed è il kit viaggio veloce d'oro, che può essere acquistato da un mercante. Adesso vi mostro il mercante, anche se comunque, diciamo, sono disponibili quasi in tutto il gioco, praticamente. Non dovete far altro che parlare con i mercanti che hanno questa sorta di icona a forma di testa di cervo o qualcosa del genere. Quindi raggiungete un mercante. Vediamo, io mi trovo qui, quindi vedo di raggiungere un mercante vicino. Eccolo qua. Mi teletrasporto qui in modo che posso dialogare con il mercante. Ora indosso, diciamo, un costume che non mi permette il teletrasporto, quindi raggiungo questo mercante qui. Per sbloccare il kit viaggio veloce oro, che vi permette di usare il viaggio rapido, gratis, e tutte le volte che volete, dovete procurarvi un bel po' di materiali. Avete bisogno di 10 carni grosse, che possono essere procurate cacciando gli animali, tipo i cinghiali, quindi voi li uccidete e prendete le carni grosse. E, diciamo, una pelle di volpe. Purtroppo non posso mostrarvi dove trovare la pelle di volpe, perché la volpe, diciamo, si trova random nel gioco. Personalmente io l'ho trovata qui, in questo territorio qua, dove c'è il deserto, e ce ne sono abbastanza, quindi ne uccidete fino a quando non trovate la pelle, perché la pelle di volpe, richiesta che è una sola, viene droppata in modo casuale. Quindi magari uccidete 10 volpi e vi danno solo la carne, uccidete l'undicesima e vi dà la pelle, oppure uccidete la prima e già vi dà la pelle. Quindi è una cosa casuale. Quindi avete bisogno di 10 carni grosse, quindi dovete uccidere praticamente i cinghiali, i tacchini, tutti questi animali che trovate in giro, i conigli. E una pelle di volpe che trovate, diciamo, o perlomeno io l'ho trovata qui nel deserto, ma anche nelle foreste rigogliose. Se vi imbattete in una volpe, l'ammazzate, prendete la pelle. E in più vi serve un altro, diciamo, materiale che adesso vi mostro. E sono i frammenti di metallo. 50 frammenti di metallo. I frammenti di metallo possono essere recuperati distruggendo le macchine, quindi praticamente ogni volta che voi eliminate le macchine potete prendere i metalli. Quindi 50 frammenti di metallo, una pelle di volpe che è casuale e 10 carni grosse. Una volta che vi siete procurati il necessario, acquistate il kit viaggio veloce d'oro, andando in risorse da un qualsiasi mercante e scendete in basso fino a trovarlo. Lo acquistate e il gioco è fatto. Non dovete fare nient'altro perché poi potete teletrasportarvi in qualsiasi momento, come potete vedere, non vi viene richiesto più alcun materiale. In questo modo potete viaggiare velocemente e all'infinito gratis in Horizon Zero Dawn.